Ecco, erano amici fino a questa sera Ok, in 3, 2, 1, go! Non ho parole, non ho parole, non ho parole signore Ogni volta è un'ammazzata che sfiora il corpo, le braccia, le gambe, la testa, il cervello Altre parti che non vi dico del suo assistente sdraiato a terra Ma lui va avanti come un maglio vano Mai visto, mai visto Signori, Cavaljit Singh Oh, sento gridare le signore del pubblico ma hanno ben ragione di farlo Guardate, ah la caviglia Ah, ce ne sono un paio d'altre Ah 10 secondi In 3, 2, 1, stop Signori, siamo di fronte a guerrieri che veramente hanno qualcosa di sovraumano E questa sera ne hanno voluto dare dimostrazione davanti agli occhi di tutti con una scena di vero Di autentico terrore e non stiamo scherzando Ora si deve sciacquare gli occhi Come ci ha detto Frigatti, questa è una pratica che loro fanno sin da bambini in allenamento Insomma, devo anche dire che visto farlo dal vivo è una cosa tremenda Adesso si è ripreso Frigatti Allora, riprendiamoci tutti perché ho visto che anche il pubblico...